Lì sul greto del fiume, il quartiere San Martino, sto preparando la sparata di domani, i mascoli, in saluto della madonna e quest'anno a quanto ne so si fa solo questo, purtroppo quest'anno niente fuochi d'artificio, niente fuochi colorati, c'è solo, solo, vabbè per gli appassionati questo è già tanto, è tanta roba, però per i turisti diciamo manca le sparate, quelle colorate giù in mare dai moli di Levante e di Ponenti. Qua siamo dal quartiere San Martino, stanno continuando il loro disegno che se siamo fortunati questo non verrà rovinato dal meteo, non danno più pioggia facendo le corna fino alla prossima settimana, è ancora una bozza, non si capisce bene cosa possa essere, almeno io non riesco a capirlo, vedremo domani o stasera ripasseremo. Grazie. 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 Grazie a tutti i bordi che i bordi. Grazie a tutti. Grandi, grandissimi. Andiamo a farlo fatto. Grandi. Non fa sattire la cosa da vostro. È bene. Andiamo a farlo.